Aveva trasformato il garage di casa e una vecchia capanna in una sorta di officina di biciclette rubate da trasformare e rimettere poi sul mercato romagnolo. Nei guai è finito un fanese disoccupato e incesturato di 53 anni che per sbarcare il lunario smontava le bici, le rimontava cambiando nei pezzi e le riverniciava come nuove. Dopo aver cancellato le matrici le brandizzava applicandoci gli adesivi delle marche più famose anche a livello locale. Quando gli agenti del commissariato di Fano si sono presentati in via del Carmine nella zona di Gimarra, l'uomo non ha saputo giustificare la provenienza di tutte quelle biciclette, in tutta una cinquantina, alcune delle quali anche costose. Per questo è stato denunciato all'autorità giudiziaria per ricettazione, ma l'attività degli agenti, coordinate dal dirigente Stefano Seretti, non si è fermata qui. Sabato scorso infatti hanno arrestato in flagranza di reato un albanese di 26 anni che poco prima, sotto gli occhi delle telecamere del comune, aveva rubato una bicicletta in piazza Andrea Costa di fianco al mercato del pesce. Nella sua abitazione a San Lazzaro i poliziotti gli hanno trovato altre tre biciclette, una rubata a Sant'Orso e le altre elettriche in zona mare. Ed è proprio in Viale Adriatico, soprattutto nel pomeriggio, che l'albanese entrava in azione per commettere i furti, un'attività che nell'ultimo periodo, tra la fine di luglio e la metà di agosto, ha registrato un incremento delle denunce che hanno messo in allarme il commissariato di Fano. Sono bastati alcuni servizi di osservazione nelle zone interessate per notare subito alcuni movimenti sospetti, che nel giro di poche settimane hanno portato all'arresto e alla denuncia di due soggetti. Questa mattina si è tenuto il processo per direttissima e la convalida del fermo dell'albanese, al quale però il giudice gli ha risparmiato il carcere, ma non l'obbligo di firma, mentre a settembre si dovrà presentare al tribunale per il processo. Tutte le biciclette ritrovate sono state portate nei locali del commissariato di Fano, in via della Costituzione 1, in attesa del riconoscimento e della consegna a legittimi proprietari. Ma attenzione, per rientrare in possesso del bene rubato è necessario avere con sé la denuncia. Ecco perché, in via preventiva, è bene prendere alcuni accorgimenti. Fare la denuncia in caso, ahimè, di furto e poi fare in modo che la bicicletta venga sempre controllata il meglio possibile e soprattutto rivolgersi a noi per qualsiasi cosa, soprattutto in caso di furto, subito chiamarci o comunque recarsi nei nostri uffici e denunciare il fatto. Grazie Grazie Grazie